Tornando verso il Teatro Ariston notiamo che non solo in via Matteotti sono presenti i blocchi di cemento, blocchi antiterrorismo, ma anche nelle vie vicine. Questa è via Palazzo, che è la via parallela a via Matteotti, come vedete la strada pedonale, comunque sbarrata da questi blocchi di cemento che durante l'anno solitamente non ci sono, o almeno sono stati posizionati solo per le festività natalizie, tutto questo per la sicurezza, perché il festival ovviamente è un momento di gioia, di divertimento e se non ci fosse la sensazione di sicurezza sarebbe molto brutto per le migliaia di persone presenti in questi giorni a Sanremo. Tra l'altro il tema di sicurezza, una delle novità di quest'anno è il drone, la città viene monitorata costantemente anche dall'alto con un drone della Polizia di Stato che sorvola le principali zone, le zone sensibili, quindi siamo nella zona rossa, quella a Tigua, al Teatro Ariston, ma non solo, tutte le zone del centro. Gli operatori della Polizia che manovrano questo drone per filmare in diretta e controllare tutte le varie situazioni ed eventualmente andare subito ad individuare persone segnalate come sospette o movimenti un po' particolari. Grande quindi l'attenzione da parte di tutte le forze dell'ordine, carabinieri, polizia, guardia di finanza, polizia municipale, insomma tutti i corpi sono interessati da questi controlli, molto importante anche l'unità cinofila. Andiamo a sentire un servizio che riguarda proprio l'apporto e l'importanza di questi cani addestrati. In zona festival a Sanremo proseguono senza sosta i controlli da parte delle forze dell'ordine nell'ambito dei dispositivi sulla sicurezza pubblica. E proprio in questo settore, in occasione della gara Canora e nella serie dei sopralluoghi condotti anche con l'ausilio delle unità cinofile, le verifiche sono state intensificate, soprattutto al Palafiori, dove in questi giorni affluiscono migliaia di persone. A rendere particolarmente proficua l'attività di ricerca, oltre alla grande professionalità degli operatori incaricati insieme agli amici a quattro zampe, che soprattutto grazie al loro fiuto infallibile possono rilevare anche esplosivi, tutte le manifestazioni in corso in questa struttura possono svolgersi tranquillamente. I sopralluoghi proseguiranno nei prossimi giorni fino al termine dello svolgimento di tutti gli eventi.